Numero 1, Federica Varini, scusate non abbiamo la grafica, numero 2, Laura Omero, numero 3, Elisabetta Pezzoni, numero 6, Oksana Bisintini, numero 7, Roberta Schiavon, numero 8, Federica Tonon, Miss Liguria, Stefania Viola, numero 10, Miss Emilia, Gemma Cacciari, numero 11, Miss Romagna, Katia Verardi, numero 12, Miss Toscana, Stefania Scatena, numero 13, Miss Marche, Stefania Abela, numero 14, Miss Umbria, Cristina Massetti, numero 15, Miss Lazio, Paola Manocchio, numero 16, Miss Roma, Serenella Ronchi, Miss Molise, numero 19, Miss Campania, Manuela Contaldi, numero 20, Miss Puglia, Domenica De Biasi, numero 21, Miss Basilicata, Daniela Gurrado, numero 22, Miss Calabria, Valentina Ammirato, numero 23, Miss Sicilia, Anna Valle, numero 24, Miss Sardegna, Romina Pani, per le Miss Cinema, numero 25, dal Piemonte, Ramona Bertazzo, numero 26, dal Veneto, Alessandra Fusato, numero 27, dall'Emilia, Monica Bellucci, numero 28, dalla Romagna, numero 29, dalla Lida, Linda Santaguida, numero 29, dalla Toscana, Barbara Cioni, numero 30, dal Lazio, Monia Musci, numero 31, da Roma, Valentina Pace, numero 32, dalla Campania, Emanuela Bellopede, numero 33, dalla Puglia, Raffaella Vacca, numero 34, dalla Calabria, Rossana Lapa, numero 35, dalla Sicilia, Elisa Orlando, per le Miss Eleganza, numero 36, dal Veneto, Erika Basanisi, numero 37, dal Triveneto, Francesca Mazzalai, numero 38, dall'Emilia, Marica Iori, numero 39, dalla Toscana, Susi Agnolini, numero 40, dalle Marche, Marilena Lantieri, numero 41, da Roma, Michela Tamburrano, numero 42, dalla Campania, Sabrina Esposito, numero 43, dalla Puglia, Claudia Di Comite, numero 44, dalla Sicilia, Cristina Pappalardo, per le ragazze in Gambissime, numero 45, dalla Val d'Aosta, Margherita Maritano, numero 46, dal Piemonte, Cristina Marini, numero 47, dal Friuli Venezia Giulia, Giada Tosolini, numero 48, dal Veneto, Diana Pilla, numero 49, dal Triveneto, Arianna Marchetti, numero 50, dalla Toscana, Stefania Attanasio, numero 51, dalle Marche, Martina Mazzarini, numero 52, dal Lazio, Monia D'Ambrosio, numero 53, dalla Puglia, Chetti Lillo, numero 54, dalla Calabria, Giussi Mellace, numero 55, dalla Sicilia, Maria Teresa Ferrata, numero 56, dalla Sardegna, Selena Lanucara, per le top model tomorrow, dal 57, Piemonte, Roberta Comoglio, numero 58, dalla Lombardia, Marica Colombo, numero 59, dal Friuli Venezia Giulia, Eva Tuzzi, numero 60, dal Veneto, Lisa Gritti, numero 61, dall'Emilia, Annalisa Baldini, numero 62, dalla Romagna, Paola Mariani, numero 63, dalla Toscana, Linda Barbagli, numero 64, dalle Marche, Sara Porrazzo, numero 65, dal Lazio, Alessandra Liberatori, numero 66, dalla Campania, Marica Lazzaro, numero 67, dalla Puglia, Francesca Vasile, numero 68, dalla Sardegna, Emanuela Valli, per le Miss Bella, numero 69, dal Friuli Venezia Giulia, Ingrid Geser, numero 70, dal Veneto, Elisa Arcangeli, numero 71, dal Triveneto, Elena Camarin, numero 72, dall'Emilia, Linda Cerra, numero 73, dalla Romagna, Antonella Longo, numero 74, dalla Toscana, Claudia Chiarioni, numero 76, dal Lazio, Susanna Pulcinella, numero 77, dall'Abruzzo, Stella Petrizelli, numero 78, dalla Campania, Laura Fresa, numero 79, dalla Sicilia, Romina Accardi, numero 80, dalla Sardegna, Barbara Spanu.